un momento grazie ciao ciao dove? in chi? in chi? non prende male il cellulare ora si guarda quello che ho installato il mio lato no non ti senti arriva prima quello sopra sa 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 la percezione deve essere quella che si sente quello sopra un altro cosetto lo so che si un appoggio allora sa 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 questo lo metterà su una mostra questo quadro si va bene uno dei tanti questo lo senti bene la mia voce o no? qua 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 c'è la pietra c'è la pietra no ce n'è un'altra la alla grana però non si può passare attenzione signora davanti è un video passi sotto non 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 sì però noi dobbiamo fare stiamo dedicando questo video al nostro artista siciliano che oggi esprime un pezzo di storia attraverso la pittura il nostro artista siciliano che si chiama bellissima opera il nostro artista siciliano il nostro artista siciliano il nostro artista siciliano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti